In arrivo 40 milioni di euro per i comuni più colpiti dall'epidemia del coronavirus. Lo prevede un emendamento al decreto rilancio approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. I fondi saranno ripartiti con decreto del Ministero dell'Interno e del MEF entro 30 giorni dalla conversione del provvedimento, tenendo conto sia dei comuni diventati per almeno 15 giorni zona rossa per contenere il contagio, esclusi in un primo momento dal decreto rilancio, sia di quelli particolarmente colpiti per numero di contagi rispetto agli abitanti, accertati al 30 giugno. L'intento, come ha spiegato il Vice Ministro Laura Castelli, è di non escludere comuni ad altissimi contagi, pochi che non sono diventati zona rossa perché poi è diventata zona rossa tutta l'Italia. Tra gli esclusi vi erano anche le ex zone rosse del Vallo di Diano e Tanagro, Sala Consilina, Caggiano, Polla, Atena, Lucana e Auletta, a cui si aggiunge in Campania Ragnoirpino, Lauro e Saviano, si è rimediato ad un'intollerabile ingiustizia. I comuni che sono stati dichiarati zona rossa con provvedimenti nazionali e regionali adesso hanno tutti pari dignità, ha dichiarato Federico Conte, deputato di Liberi Uguali, primo firmatario di un emendamento al decreto rilancio sulle zone rosse che erano state escluse dal provvedimento del governo, poi confluito nell'emendamento unico che col parere favorevole del governo ha avuto il via libera ieri, un emendamento che aveva avuto un sostegno bipartisan da parte di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento.